Eccoci qua sul balcone di casa, qui davanti ci sono i ponteggi per rifare il tetto del teatro Romualdo Marengo, certo che fare un tetto d'inverno ma comunque quando fiora è l'inizio, comunque sono scelte. E questi, ecco qui i nostri tre, uno, due, tre, tre bei vasetti con uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette piantine dentro e che ci sono venuti a costare la bellezza e la freschezza di 96 euro. Cavolo! Ai tempi della lira sarebbero stati quasi 200.000 lire. Ciò significa che ognuno di questi vasetti costerebbe 30 euro ovvero 60.000 lire. Io, a dire la verità perché mi ricordo, ai miei tempi con 60.000 lire quando ancora abitavo a Capriata d'Orba compravo, non so, una foresta e anche poi quando mi ero trasferito a Genova negli adonghi, anche lì, quando abbiamo messo a posto i nostri balconi, praticamente non abbiamo mai speso così tanti soldi. Come mai? Il potere d'acquisto è sempre minore e pensioni e stipendi però rimangono sempre gli stessi. Questo è il problema.